E' successo di tutto dal mio grosso grasso matrimonio greco. Mio padre è venuto a mancare e come ultimo desiderio voleva che noi visitassimo il villaggio in cui era nato, per riconnetterci con le nostre radici. Quindi faremo una rimpatriata. Noi andremo in Grecia. Oh sì! E per noi intendo... Tutta la famiglia. Chi vuole un Sublaki? Chiamata per Sublaki! C'è una donna che si chiama Sublaki su questo aereo! Aristotele, cosa... Non sapevo ci fossi tu. Ci fai qui! Hanno avuto un bellissimo appuntamento. Lei li ha fatto ghosting. Siete la famiglia Porto Carlos! Siamo imparentati! Il papù del vostro papù ha sposato la cognata della sorella della mia pro-pro-ya-ya. Cucina! Io sono la ziavula, sarò la tua preferita. Ho promesso a mio padre di trovare i suoi amici. Li conosco bene! Vivono ancora qui? No! Come li troviamo? Verranno per la rimpatriata! Ti hanno detto che verranno? No! E le camere da letto? Pizzama party di famiglia! Questa è una rimpatriata? Che non dimenticheremo mai. Conosci questi uomini? No! Sono sorpresa, ma non sono sorpresa. Perché io non sono mai sorpresa. Non ti seguo. Hai sognato Aristotele ieri notte. Come lo sai? Voodoo greco! Bam! Dobbiamo trovare gli amici di papà. Ci pensiamo io e Angelo. Ok, ciao! Facciamolo! Lo ammetto. Ci hai fatti tornare in Grecia. Sei il capofamiglia ora. Yamash! Non posso bere così di giorno. Tranquilla, le donne non si ubriacano. Sei lì quale avremo per cena. Oh, grazie. Sono un vegetariano? No. No! Oh! Nei! Grazie a tutti.